la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa per vedere quali sono le principali notizie pubblicate questa mattina sui quotidiani partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale è stata ieri sera la scadenza per la presentazione delle liste in campo alle prossime elezioni europee del 26 maggio e vediamo che è proprio questo il tema di apertura per il mattino nazionale europee liste al veleno, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, scontro al sud, Carfagna fuori, serve un partito vero Berlusconi contrariato dai veti incrociati, cancellati a sorpresa due candidati dei 5 Stelle nuovi sospetti su Russo al veleno le liste ormai chiuse per le europee al sud, in primis Forza Italia con l'esclusione di Carfagna e uno schieramento che al di là del capolista Berlusconi irritato dai veti non appare irresistibile il giudizio della Carfagna è gelido serve un partito vero ma anche tra i 5 Stelle è bagarre e poi lo studio scuola l'autonomia con il trucco così i fondi dirottati verso il nord il trucco c'è e ora si vede fra le 23 materie in ballo nell'autonomia è l'istruzione la più delicata proprio sulla scuola regionalizzata però si sta giocando sporco Lombardia e Veneto vogliono ottenere 1,4 miliardi in più con la media pro capite un danno per il sud eppure se si calcola il costo per studenti a essere virtuose sono Campania e Puglia e ancora i redditi buongiorno al top Salvini batte di maio il crollo di Renzi Per quanto riguarda invece l'altro tema di strettissima attualità si parla dell'ipotesi aumento IVA come dichiarato dal ministro dell'economia Tria vediamo aumento IVA e lite Tria sotto assedio no dei due vicepremier alla revisione delle aliquote Conte irritato con la Lega sull'aumento dell'iva confermato da Tria si consumano a nuova lite Salvini e Di Maio non ci sarà revisione aliquote e il ministro del tesoro è sotto assedio Conte incalza la Lega e poi l'analisi la strada è obbligata fanno finta di litigare in alto invece si parla di calcio si parla di Europa League al momento l'unica squadra rimasta in Europa dopo l'esclusione della Juventus dalla Champions League contro l'Ajax è il Napoli ma sarà dura questa sera per il passaggio del turno infatti si parte dal 2-0 dell'Arsenal in casa e questa sera al San Paolo i giocatori di Carlo Ancellotti dovranno ribaltare quindi un risultato difficile contro una grande squadra vediamo il titolo il Napoli deve ribaltare il 2-0 dell'Arsenal l'Ancellotti cuore e testa e poi vediamo le parole con cui il mattino incita i ragazzi di Ancellotti senza paura il punto Re Carlo si gioca la corona mentre nel controcampo l'Ajax insegna che tutto può succedere andiamo avanti andiamo ora di taglio basso vediamo come chiude la prima pagina del mattino andiamo a Santa Anastasia terrore in aula frana la parete ferite alunni e maestra incinta si è rischiata la strage in una scuola elementare nel Napoletano il crollo di una parete sui banchi ha travolto 5 allunni di quarta e un insegnante di sostegno incinta sono tutti feriti questa è la prima pagina del mattino nazionale ancora mattino però andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno quindi per vedere quali sono i principali temi per il salernitano in apertura parliamo di scuola parliamo di maturità quota 10.000 questo il titolo parte la macchina organizzativa ma ci sono quasi 200 candidati in meno continua l'emorragia di studenti a Salerno saranno cancellate tre commissioni scatta il conto alla rovescia per gli esami di maturità secondo la ricognizione annuale effettuata dall'ufficio scolastico provinciale rispetto allo scorso anno scolastico sono 190 i candidati che non parteciperanno alla prima prova scritta di metà giugno una flessione emersa dagli elenchi di via Monticelli più che raddoppiata rispetto al 2017 quando il decremento di studenti all'ultimo anno delle superiori chiamati a sostenere la maturità ammontò a poco meno di 100 unità al calo dei candidati si aggiungerà probabilmente la cancellazione di tre commissioni d'esame rispetto all'anno scolastico 2017-2018 andiamo ad Ogliara sempre di taglio alto sassate i vetri delle elementari noi impotenti contro i vandali raid alla scuola presi a sassate i vetri della segreteria e degli archivi del plesso elementare di Ogliara siamo inermi di fronte ad un'escalation di azioni vandaliche che vedono colpita la sede di Ogliara in una zona di Salerno che ci vede in prima fila per contrastare la dispersione scolastica di fondo la politica e le elezioni corsa a Strasburgo per 15 salernitani presentate le liste ecco tutti i candidati cacciatore figlio in campo e dimissioni elezioni europee presentate le liste sono 15 candidati salernitani doc più quelli d'elezione come il rettore Tommasetti il suo predecessore Pasquino e l'ex procuratore antimafia Roberti per le infrastrutture aeroporto fondi a rischio il governo ritarda ancora oltre 15 giorni di ritardo rispetto al cronoprogramma con lo spettro del fallimento che incompe se la pratica non sarà chiusa entro i prossimi otto mesi per il focus regione 173 vitalizi d'oro da tagliare doppi assegni per gli ex consiglieri spostiamoci a centro pagina nella fotonotizia la movida l'ira degli organizzatori di Logos via da Palazzo Genovese il comune ci ha sfrattato e poi il caso a Guerra delle Lucciole la maximulte non ci spaventano a mezzogiorno già 20 ragazze in strada viaggio in Litorania dopo l'ordinanza del sindaco guadagno 500 euro così mantengo mia figlia a Cava dei Tireni Polichetti in cella l'ex vice sindaco resta la Cassazione di taglio basso il calcio con la Serie B e la Salernitana Salernitana con il modulo della rimonta questo è il titolo sfida al Brescia Gregucci punta sulla difesa a tre dubbi in mediana le altre notizie per quanto riguarda la cultura e la musica di Andrè a Ciaroli canto mio padre mentre per la chiesa tutti i parroci in duomo l'abbraccio a Moretti nei box in alto il libro delle ombre Monterisi il porto sicuro dei salernitani in guerra e poi Memorie della bellezza arte e femminismo da B78 a Mi Art 2019 questa è la prima pagina del mattino di Salerno andiamo sulle cronache si parte con la politica si parte con i candidati alle prossime elezioni europee del 26 maggio lo abbiamo visto anche dal mattino polemiche in Forza Italia per l'assenza di Mara Carfagna tra le liste vediamo europee Mara scuote Forza Italia esclusa clamorosamente dalla lista azzurra Salerno si punta su Ilar di 5 stelle salvi i candidati salernitani con Forza Nuova si candida Feniello tutti i candidati poi saranno saranno elencati sullo quotidiano di Le Cronache nelle pagine interne andiamo avanti il candidato a Salerno Sofo a Salerno il fidanzato della Le Pen lancia la sfida e poi Cava dei Tirreni di esame ordina Polichetti va arrestato sentenza shock per l'ex vice sindaco e accolto il ricorso della procura di Salerno voto di scambio politico mafioso con il boss Zullo andiamo avanti la polemica per la manifestazione il comune blocca logos l'ira di Jannece Salerno è morta di taglio basso invece per la cronaca scafati otto anni a Buonocore stangata al genero di Franco Matrone due anni a Vincenzo Nappo nonno estorsione ai commercianti agli imprenditori arrivano sei condanne cinque assoluzioni e ancora droga tra Ponte Cagnano e la Piana Lucia Trotta parla e va ai domiciliari dopo l'interrogatorio libero anche adriatico a Sarno infine il centrodestra esclude la lista Sarno rinasce libera questa è la prima pagina di Le Crona che infine tra le prime pagine andiamo a vedere quali sono i titoli più importanti per la città vediamo in apertura Bellandi un teologo pastore per Salerno sarà ordinato Vescovo a Firenze inizio maggio l'ingresso in diocesi è previsto a giugno prima della visita del Papa a Napoli il saluto di Moretti alla messa a Crismale per il clero in cattedrale voi siete il popolo di Dio ancora a centro pagina non c'era inferiore giudice come Bergoglio e social sono una droga e poi invece cambiamo argomento lasciamo la chiesa ci spostiamo di fondo vediamo Gifoni Valle Piana 18enne morì per un'overdose 5 anni al fornitore a Pagani sempre per la cronaca a Spaccio alla Lamia 2 anni di processo senza sentenze infine andiamo a Palomonte camionista ferito in un capannone spira dopo 10 giorni di spalle invece troviamo le notizie di politica e in particolare le notizie delle liste presentate per le prossime elezioni europee vediamo liste per le europee tutti i nomi in corsa quindi anche sulla città troverete i nomi dei candidati alle prossime europee ancora Piazza della Libertà l'appalto il burocrate la poltrona vuota e poi a Salerno lungomare e degrado ancora un mercato andiamo nei box in alto Salernitana e la ricorrenza del centenario dalla costituzione della squadra della società Amarcord tifosi c'è l'ippocampo griffato Dalma il recupero di Serie C riscatto cavese sbanca Viterbo e rivede i playoff e poi le speranze di evitare la deal consiglio FIGC vara la norma salva Paganese Lasciamo il calcio andiamo di taglio basso vediamo come chiude la prima pagina della città storia all'italiana pedaggio i ribelli dal giudice eboli per tornare a casa 10 euro al mese citati da un privato da 12 anni pagano il pedaggio per tornare a casa ora rischia una condanna civile con tanto di spese legali 12 ebolitani che vivono sulle colline di Sant'Andrea nella cooperativa Il Gabbiano sono stati citati in tribunale a Salerno la proprietaria della strada vuole i soldi del pedaggio i residenti scuotono la testa li chieda al comune e poi battipaglia crisi alba stipendi d'oro e silenzi chiudiamo la prima pagina della città quindi chiudiamo un po' le prime pagine e andiamo ad approfondire i temi di carattere nazionale dalle prime pagine dalle pagine di primo piano del mattino nazionale partendo dal tema dei conti pubblici ed in particolare del possibile aumento dell'IVA come annunciato da Tria vediamo il titolo su questa pagina Tria senza alternative l'IVA dovrà aumentare ma arriva il no di Salvini e Di Maio il ministro in commissione bloccare le clausole è soltanto una scelta politica i due vicepremier attaccano taglieremo le tasse IDL crescita in consiglio dei ministri dopo Pasqua oggi invece il consiglio dei ministri esaminerà la nuova versione del provvedimento sblocca cantieri per il 2019 il titolare dell'economia ha definito le prospettive di crescita del DEF equilibrate l'aumento dell'IVA scatterà regolarmente dal primo gennaio del 2020 a meno che non si riescano a trovare i 23 miliardi necessari per congelare le clausole di salvaguardia che l'Italia ha messo come garanzia con l'Europa in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di bilancio Giovanni Tria conferma che la spada di Damocle fiscale pende tuttora sulla testa dei consumatori italiani mettendo una seria ipoteca sulla composizione della prossima manovra di bilancio e poi troviamo l'intervista a Massimo Garavaglia è una tempesta in un bicchiere d'acqua nessun ritocco arriverà invece la flat tax il vice ministro dell'economia con una risoluzione parlamentare sterilizzeremo le clausole faremo ordine nel grande caos delle agevolazioni e ridurremo le imposte al ceto medio e poi la riunione cabina di regia per rilanciare gli investimenti pubblici chiudiamo questa pagina ma non cambiamo argomento andiamo proprio infatti sulla pagina dedicata all'analisi dell'ipotesi aumento IVA quali possono essere quindi le misure allo studio proprio per evitarla vediamo il titolo imposta sui consumi la via dei ritocchi mirati resta il nodo del gettito ogni punto di aliquota ordinaria vale 4,4 miliardi con aumenti selettivi servirebbero comunque altri interventi per neutralizzare tutte le clausole e poi vediamo le aliquote attuali in questo momento al 22% quali sono i prodotti quindi al 22% troviamo vino abbigliamento elettrodomestici detersivi pezzi di ricambio per le auto giocattoli mentre poi sotto troviamo le altre aliquote al 4% attualmente sono pane pasta verdure altri generi alimentari di prima necessità libri giornali prima casa ridotta al 10% energia trasporti farmaci carne pesce alberghi bar ristoranti cinema e teatri ed edilizia e poi tutto il resto come abbiamo visto al 22% l'ipotesi tra le ipotesi si ipotizza appunto si parla di inserire con l'aliquota del 4% anche prodotti per l'infanzia come pannolini e magari anche alcuni servizi quindi qualche riduzione si pensa comunque a qualche riduzione cambiamo argomento andiamo di taglio basso navigator gli aspiranti sono 100.000 oggi il bando per assumere i primi 2.980 navigator ricordiamo sono quelle figure che dovrebbero accompagnare all'ottenimento del reddito di cittadinanza avviate le selezioni in campagna il maggior numero di coach 471 di cui 274 a Napoli nel Lazio sono 273 e in Lombardia dovrebbero essere 329 le figure in cerca lasciamo anche questa pagina del mattino nazionale andiamo ora sugli esteri parliamo del rogo di Notre Dame il rogo che ha distrutto la cattedrale simbolo di Parigi vediamo il rogo di Notre Dame l'allarme ignorato colpa di un computer un bung informatico ha indirizzato gli agenti verso un punto sbagliato il tempo perso ha favorito il rogo la cattedrale non era assicurata tutto dovrebbe essere partito alla base della guglia nel lato sud si indaga su due ascensori cercano un cerino in mezzo ai resti di una cattedrale un mozzicone di sigaretta la cannella di una fiamma ossidrica o magari le tracce chimiche di un combustibile per cercare quindi di risalire quindi si cerca di far luce sull'incendio infine andiamo di taglio basso c'è stata una mal sana curiosità ma la sana curiosità mi indigna la gara dei mecenati e con questa pagina chiudiamo la nostra prima parte della rassegna stampa breve stacco pubblicitario torneremo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani con le notizie del salernitano andiamo sul mattino di salerno e parliamo proprio delle elezioni europee sia sul mattino che sulle cronache troverete ampio spazio dedicato proprio al tema delle elezioni europee dopo la presentazione delle liste dei candidati in particolare sulle cronache troverete proprio tutte le liste intanto vediamo per quanto riguarda invece la pagina del mattino di salerno vediamo la politica e le elezioni corsa a Strasburgo sono 11 i salernitani presentate le liste New Entry Ventura Mangiero e Vuolo anche Tommasetti Roberti e Pasquino giocano in casa il filosofo cacciatore lascia la presidenza di articolo 1 a MDP il figlio fortunato e candidato ma io dissento sulle scelte europee presentate le liste in corsa per la circoscrizione sud in rappresentanza dei partiti di centrodestra e centrosinistra sono 10 salernitani doc con l'aggiunta di 3 illustri salernitani per così dire d'adozione l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che ha guidato anche la procura salernitana il rettore dell'università di Salerno Aurelio Tommasetti ed il suo predecessore Raimondo Pasquino il popolo della famiglia lancia Gambardella con forza nuova Feniello padre del ragazzo morto al Rigopiano andiamo avanti per il Movimento 5 Stelle calano il poker ad Inolfi chance per il bis Salerno cala il poker sono 4 candidati della provincia nessuno di Salerno città in corsa per un posto al Parlamento europeo sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle e poi andiamo in regione i costi della politica 173 vitalizi d'oro da tagliare doppi assegni per alcuni ex consiglieri la sforbiciata riguarderà anche nomi altisonanti in primis Bassolino tra i salernitani Russo e Marrazzo non ci sarà un caso cicciolina in Campania che prenderà 800 euro di vitalizio al mese non più 2000 ma la sforbiciata in arrivo riguarderà nomi altisonanti che hanno ricoperto ruoli rilevanti in seno al Consiglio regionale in primis l'ex Presidente Antonio Bassolino chiudiamo questa pagina dedicata alla politica andiamo avanti parliamo ora invece di scuola lo abbiamo visto anche dalla prima pagina del mattino di Salerno ci si prepara per gli esami di maturità ma i conti non tornano per quanto riguarda proprio il numero degli alunni che si presenteranno agli esami vediamo il titolo febbre da maturità meno candidati e boom scientifici ai nastri di partenza 10.780 studenti la flessione continua a Salerno e provincia saranno cancellate tre commissioni scatta il conto alla rovescia per gli esami di maturità ma secondo la ricognizione dell'ufficio scolastico provinciale sono 190 candidati che non parteciperanno alla prova quindi 190 candidati in meno il countdown è già scattato non solo per gli studenti ma anche per gli addetti ai lavori all'ufficio scolastico provinciale ha preso il via negli ultimi giorni la macchina organizzativa in vista della definizione delle commissioni d'esame un'operazione ben rodata che rappresenta ormai l'anticamera delle prove d'esame parte quindi la macchina organizzativa le lunghe vacanze pasquali riducono le settimane di lezione residue e poi andiamo ad ogliare il caso dei vandali e i danni di una scuola sassata ai vetri dell'istituto siamo enermi contro i vandali elementari nel mirino lo sfogo della preside non è il primo attacco che subiamo inciviltà e barbarie contro un presidio di legalità chiudiamo questa pagina restiamo sulle pagine del mattino di Salerno e andiamo ora ad approfondire i temi che riguardano in particolare la provincia di Salerno andiamo sulla pagina dedicata alle notizie della Piana del Sele dei Picentini del Cilento e del Vallo di Diano e apriamo con una notizia da Eboli le maximulte non cacciano le prostitute questo è il titolo il mercato del sesso continua dopo l'ordinanza di Cariello almeno 20 ragazze in strada a Campolongo a mezzogiorno Jeanette straniera di 22 anni non ho paura delle sanzioni guadagno più di 500 euro e devo mantenere mia figlia andiamo avanti a Battipaglia terreni stir conto salato alla provincia gli uffici municipali reclamano il pagamento dell'Imu Palazzo Sant'Agostino prono a resistere alla richiesta la provincia di Salerno si prepara a resistere contro il comune perché pretende la riscossione dell'imposta municipale propria della cosiddetta Imu sui terreni dove sorge lo stir lo scorso 4 marzo gli uffici comunali hanno presentato ben 6 accertamenti sulle annualità da 2013 al 2018 mentre all'impianto si continuano a registrare emergenze che rallentano il conferimento dei rifiuti provinciali gli uffici comunali hanno presentato un conto salato ai colleghi della provincia restiamo a Battipaglia ladri nella boutique colpo da 8 mila euro mentre di spalla a Ponte Cagnano Faiano lavori pubblici per i detenuti addetti al verde alla cultura favorire il reinserimento sociale dei detenuti e questo è l'obiettivo del progetto mi riscatto per Ponte Cagnano Faiano progetto nato dalla collaborazione tra il comune e il carcere di Salerno Forni presentato ufficialmente a Palazzo di Città con tanto di firma del protocollo di intesa del sindaco Lanzare della direttrice del penitenziario Rita Romano Di taglio basso Camerota Castello venduto all'asta ora il comune lo rivuole mentre a Polla Ecoballe nell'ex Ergon i 5 stelle sarà Battaglia l'ex sede dell'Ergon nella zona industriale diventa sito temporaneo per tonnellate di Ecoballe e quanto si prospetta nel Vallo di Diano con la ferma resistenza del sindaco Giuliano del presidente della comunità montana accetta del consigliere regionale Camarano del Movimento 5 stelle Chiudiamo le pagine del mattino e andiamo ora invece sulle pagine di Le Cronache vediamo sulle pagine di Salerno si parla innanzitutto della regione dei tagli ai vitalizi vediamo taglio dei vitalizi in regione un risparmio da 5 milioni di euro proposta dei 5 stelle Campani calcolo contributivo e divieto di cumulo Ciarambino oggi la regione spende 10,7 milioni la campagna dovrà adeguarsi entro il 31 maggio appena un mancato stanziamento di fondi per 150 milioni e poi il caso Sanità scusate Majorano dice no tutto da rifare per il commissario spunta il nome di desideri pasticcio Sanità Majorano rifiuta e si torna appunto a capo non c'è pace in campagna sulla sanità oggi l'argomento approderà in consiglio dei ministri quando si procederà o si dovrebbe procedere alla nomina del nuovo commissario alla sanità e alla contestuale rimozione dall'incarico di Vincenzo De Luca stavolta l'errore è del ministro Grillo che avrebbe segnalato il nome del nuovo commissario della sanità in campagna senza probabilmente consultare l'interessato la trattativa si è arenata probabilmente per un rifiuto dello stesso Moirano per l'aeroporto invece decreto o sarà mobilitazione l'appello della CGL al governo per la rinascita dello scalo è necessaria la firma interministeriale ieri il convegno a Salerno il progetto dell'aeroporto a Salerno deve andare avanti ne ha bisogno il mezzogiorno ne ha bisogno l'Italia se non ci sarà uno sblocco della firma e nel decreto interministeriale siamo pronti ad una mobilitazione nazionale da Salerno dove Filt CGL Campania e Filt CGL e Basilicata hanno scelto di rilanciare la battaglia per il futuro del secondo scalo in Campania il segretario generale della CGL nazionale Stefano Malorgio ha annunciato l'avvio di una mobilitazione permanente per chiedere al governo di dare un futuro certo all'aeroporto Salerno Costa da Malti chiudiamo questa pagina restiamo sulle cronache andiamo sulla pagina di Battipaglia e della provincia di Salerno in apertura Battipaglia Alba c'è il rischio liquidazione la SRL sarebbe sull'orlo del Baratro senza un accordo tra Federambiente e Comune parla il capogruppo di Forza Italia Valerio Longo Alba SRL senza un accordo tra Federambiente e Sindacato nei turbini e Comune sarà messa in liquidazione questo è il grido d'allarme lanciato dal capogruppo consigliare di Forza Italia Longo che si è scagliato contro l'intransigenza dei sindacati che a sua detta avrebbero assunto una posizione che se perpetrata potrebbe condurre alla liquidazione della società e al licenziamento dei suoi dipendenti andiamo avanti sempre Battipaglia ladri al negozio d'abbigliamento in via Solferino le indagini da parte dei carabinieri il post su Facebook svaliggiato un negozio di abbigliamento a Battipaglia i ladri hanno fatto irruzione all'interno del locale in via Solferino 11 ed hanno rubato gli articoli di vendita e poi il post sulla pagina di Facebook di Battipaglia quello vero questa è la città di M in cui vivo Battipaglia e poi andiamo a Eboli svuotarono gettoneria al bar condannateli richiesta dei PM Maiale sai chi sono io e ad Agropoli invece istituto polidiagnostico piace la nuova sede si trova in via estate 31 nella contrada a Moio il flusso degli utenti chiudiamo questa pagina andiamo infine sulla pagina della provincia più a sud di Salerno quindi in particolare anche il territorio del Vallo di Diano e si apre proprio con una notizia del Vallo di Diano andiamo a Polla questa volta però non parliamo in apertura del caso delle ecoballe ma si parla invece di un'altra buona notizia per l'ospedale di Polla con la banca Montepruno che si offerta di aiutare nella realizzazione di un punto codice rosa vediamo il titolo un'area del curto per donne vittime di violenza la disponibilità della banca Montepruno a finanziare l'iniziativa alla richiesta dei responsabili dell'aslo da parte dei vertici del comitato se non ora quando il comitato spontaneo cittadini denominato se non ora quando laggia una significativa ed importante proposta ai vertici dell'azienda sanitaria di Salerno in considerazione della delibera regionale di ricepimento delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza denominato percorso per le donne che subiscono violenza la presidente del comitato del Vallo di Diano Rosi Pepe ha riformulato ai rappresentanti istituzionali la richiesta di individuare all'interno del presidio ospedaliero del curto un'apposita area preposta all'assolvimento delle finalità conformi al percorso il motivo di tale richiesta sta nella circostanza per la quale il comitato aveva ricevuto già la scorso anno la disponibilità del direttore generale della banca Montefruno Michele Albanese a provvedere a quanto occorresse non solo per la realizzazione della sala ma anche per i correlati arredi e suppellettili andiamo avanti a sala consigline elezioni candidati e coalizioni pronti a sfidarsi all'ultimo voto all'uscente Cavallone si contrappone Cartolano anche egli del PD il centrodestra con Santoriello queste le possibili formazioni in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio per il rinnovo del consiglio comunale a sala consiglina andiamo avanti a Padula scusate sulla A2 del Mediterraneo l'incidente tra sala consigline e Padula anziano contromano la donna rimasta ferita e operata d'urgenza presso l'ospedale di Polla è fuori pericolo e poi si parla del caso delle ecoballe a Polla vediamo ecoballe in arrivo a Polla Camarano attacca la regione il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle parla di scelte scellerate e di schizofrenia del piano rifiuti chiederemo chiarimenti la schizofrenia del piano rifiuti regionale targato Vincenzo De Luca è all'origine di una totale anarchie di decisioni logiche a spese della salute dei cittadini della campagna per il terzo anno consecutivo la provincia di Salerno bypassando quanto deliberato a livello territoriale ha stabilito che i rifiuti prodotti nell'Interland salernitano il periodo in cui le tre linee dell'inceneritore di Acerra saranno ferme dovranno essere ospitate nel sito di stoccaggio di Polla e con questa pagina chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo il nostro appuntamento con il TG alle ore 13 e 45 grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti